Sono rientrati i sani e salvi padre e figlio soccorsi nella serata di sabato 13 febbraio ad Albosaggia. La richiesta d'aiuto era arrivata agli uomini del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino intorno alle 18. I due scialpinisti, residenti in zona, erano usciti per un'escursione nella zona del Pizzo Meriggio, ma si sono trovati in difficoltà durante il rientro e quindi hanno chiesto aiuto. Mentre stavano scendendo a un certo punto, infatti, sono rimasti bloccati sotto una nevicata lungo una cornice rocciosa in un'area situata sopra ad alcune rocce a poca distanza dalla località Baita Campei, senza riuscire né a proseguire a piedi né con le pelle di foca. Tramite un amico hanno inviato con lo smartphone agli operatori una foto del luogo in cui si trovavano, ma dal momento che erano in una zona boscosa non c'erano molti riferimenti per identificare il punto esatto. I soccorritori, appartenenti alla settima delegazione Valtellina-Valchiavenna del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico, sono però riusciti a mettersi in contatto telefonico con loro e ottenere le coordinate, in modo da localizzarli subito e fornire tutte le indicazioni utili perché l'intervento andasse a buon fine. I dati hanno anche permesso di individuare il percorso più agevole e meno rischioso dall'alto. L'intervento si è comunque svolto al buio, per fortuna in un momento in cui aveva smesso di nevicare. I tecnici li hanno raggiunti in poco tempo, trovandoli infreddoliti e affaticati ma illesi. Insieme hanno poi ripreso la traccia per la discesa e verso le 21.30 sono arrivati al parcheggio dove avevano lasciato la loro auto. In questi giorni il Soccorso Alpino rinnova l'appello alla consultazione del bollettino nivometeorologico prima di intraprendere escursioni in montagna. Le ore di luce sono ancora limitate per cui è sempre bene avere con sé lampade frontali o torce elettriche per illuminare il percorso per fare segnalazioni se necessario. Un abbigliamento adeguato adatto alla permanenza per alcune ore a basse temperature è un altro elemento molto importante come pure una riserva di acqua e cibo, molto utile se si è costretti per qualsiasi imprevisto a restare all'aperto più tempo di quanto preventivato. Un'attenta programmazione dell'itinerario, sottolineano infine i tecnici, è sempre utile per ridurre i rischi.